io per andare di sopra la meglio è qua per il settero qua e scavare di sopra se si può ripollare io penso che si stiamo in un po' idea di palla il viperone il viperone c'è anche una grotta bella ruttone ok il ragno qui allo spigolo si gira il canale niente di che il canale uscire brava 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 bene tutto nella norma brava 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 brava